Un'altra giornata nera sul fronte coronavirus. I decessi salgono a 18. Il Gores ha oggi ricevuto comunicazione di tre uomini deceduti nell'ospedale di Senigallia ma provenienti dalla provincia di Pesaro, 67, 84 e 85 anni e di una donna di 83 anni deceduta a fermo proveniente dalla provincia di Macerata e di un uomo di 81 anni deceduto nell'ospedale di San Benedetto proveniente però dalla provincia di Ancona da dove era stato trasferito. Una curva della crescita dei contagi che è esponenziale mostra purtroppo lo stesso preoccupante andamento di quello che si è avuto in Lombardia. I positivi sono arrivati a 394 più 71 rispetto a ieri, 296 solo a Pesaro e 81 ad Ancona. Aumentano di conseguenza anche i ricoverati, quelli in terapia intensiva sono 54 con 7 nuovi ricoveri nella giornata di oggi mentre quelli in altri reparti sono 156, 20 più di ieri. 76 invece sono nelle strutture di Marche Nord e 17 in quelle di Ancona. Anche Iesi e Urbino registrano un'impennata di ricoveri non però in reparti intensivi arrivando a una decina ciascuno. Rimane preoccupante però anche il numero degli operatori sanitari messi in quarantena che non accenna a diminuire oggi sono 2,98, 24 più di ieri. In totale le persone in isolamento volontario domiciliare nella regione Marche sono 1,744 di cui 918 solo nella provincia di Pesaro e Urbino.